Se volete acquistare account moddati per GTA V a basso costo, passate su Moddinglantia, link in descrizione. Dai oh, oh, ce la sto facendo, incredibile! Sì! Ma che cazzo, sono esploso alla fine! È il destino, non la puoi fare. Inizio, ce l'avevo fatta! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo in una gara moddata assurda, con un wallride di elicotteri. Che cacchio... Gli aerei al contrario, Vince, che cacchio è? Non lo so! Minchia! Comunque ragazzi, siamo con Vince, avete sentito la sua voce prima, che la ghicchia un pochino. Partiamo subito, vai, si parte. Aerei al contrario. No, sì. Io prendo l'unico che prende l'albero. L'unico che sbaglia strada? Ecco. Chiaramente, iscrivetevi a Vince, perché sennò avete la madre, non ti dice come. Bello. Dai. Ecco il wallride. Oddio! Che cacchio! Che roba è? Ci sbattiamo sopra, sopra gli aquiloni. Oddio, oddio, oddio! Dai ragazzi, sì, ma come fai a metterti? No, vabbè, raga, il wallride di elicotteri è la novità 2010 in the EU best, cioè. Cavolo, eh. Vai, vai, vai che ce la puoi fare, vai che ce la puoi fare, vai che ce la puoi... Sì, va bene. Grazie, gioco. No, no. Vince, è grande però, eh. Non è... È bello grandicello, eh. Eh, lo so, lo devi prendere giusto. Ecco, ci ho messo tre giri, mi sto pentendo. Ce la sto facendo! Ce la sto facendo! Porco! Eh, io vorrei... Il problema è che se ne va sempre sopra la macchina, sugli elicotteri. Non resta mai. Ho capito un po' come funziona. Tipo, ci devi stare... Eh, grande. Ci devi stare in mezzo, un po'. In mezzo, bravissimo. Eh, in me... Vai a stare in mezzo, che se ne vola subito, appena vai sugli elicotteri. Le macchine si trucano, ragazzi. Sali, 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 sali. Grande, grande. Vai così, vai così, vai così. No, era arrivato vicino al meteorite. Oh, no. Era la fine, quasi. Sì, la fine. È gigantesco. E hai fatto i primi due chilometri, poi te ne mancano altri otto. Eh, io che mi sto pentendo male di aver... Eh, qua, mo' prende pure il container, che palla. Mi sto pentendo di aver messo tre giri. Perché ho visto... Ha detto, è una gara corta, quindi finirà subito, no? E c'è il volare che ti fa sclerare come una bestia. Corta, eh. Cioè, tralasciamo, eh. Corta. Dai, dai, dai. Dai, ragazzi. Dai. Cosa? Ma, urti alle aerei pure. C'è un altro ostacolo. Urti pure alle aerei. Che bello. La stavo facendo tranquillamente, ragazzi. La stavo facendo proprio dritto, dritto, tranquillamente, no? Prendo il coso dell'aereo. Boom, me ne pulo. Dai. Che bello. Ah, ebbè, mo' l'aereo è fisico. Prima so' passato dentro. Mo' invece è diventato fisico tutta una volta. Ecco. Madonna. Non sono arrivato mai più lontano di quel punto. Mai. Mai. Sì. Il 360 pure. Che più. Non volete far volare. Che più. Partono le bestemmie e tutto il calendario. No, non si devi girare. Non ti devi girare. Minchia, Val. Che sclero di gara. Porca miseria. Vai. 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 C'è gente che mi scrive che ti amo su YouTube. Quindi tu mi ami solo se faccio video. Se no non mi ami. Eh no. E non ci siamo. Ragazzi, ad Alex Z bisogna amarlo sempre. Se no ne la metto in silenzio. Alex Z non deve fare queste gare. Perché poi gli passa la voglia. Vai l'elicottero. Dai l'elicottero che tu mi vuoi bene. Vai l'elicottero. I cancri di merda e tumorati. Porca. Ma. Io arrivo. Allo stesso punto. E c'è qualcosa che sbaglio. Che cazzo è? Un gatto. Allora. Ragazzi concludete la gara. Perché io non voglio farla più. Mi sono rotto le palle. Le palle mi sono cementificate. Cioè. Dai. E va giù. Sempre lì va. Ah. Gli sclerci. Distruggo. Distruggo il joystick. Purtroppo lo comprate voi però. Senza facecam. Non si può vedere. La facecam. Ma è sì. Io mettevo la facecam qua. Spaccavo pure la facecam. Dai. Basta. Oh. Ce la sto facendo. Incredibile. Sì. Ma che cazzo. Sono esploso alla fine. È il destino. Non la puoi fare. Ce l'avevo fatta. Vedevo il checkpoint. Devi passare in mezzo alle ali degli aerei. Se vai a prendere l'ala. Esplodi. Eh. Ma se la gara l'ha fatta infattibile. Cioè. Chiaramente il creatore. Tipo blu. Col francese. Che si mette a nerdare. A fare Cristo di gare. Ma io veramente. Come. Ce l'avevo fatta. Bisogna passare in mezzo alle ali. Ai cosi degli aerei. Se la vai a prendere un'ala per sbaglio. Esplode la macchia. Tutto da capo poi. E poi ti viene la paranoia. Eh minchia. Dai. Eh. Sempre sto problema. Che se ne va giù. Io poi penso di andare sopra. Invece se ne va giù la macchia. Giustamente le eliche poi diventano fisiche. Cioè da tutte non fisiche. Diventano fisiche. Gente che si bugga sotto terra. Vedevo gente che tremava la macchia. No. No. Perché ti giri troppo. Cosa vuoi. Ti vedi. Oh ce la sto rifacendo. Vai Alex Z. Ce l'ho fatta. Non ci credo. Le astronavi. Sì. Ho preso il check. Ho preso il checkpoint. È pieno di astronavi e meteoriti. No che culo. Ragazzi dopo miliardi di tentativi. 9 minuti di caldo. Al 9 minuto. Ho preso il checkpoint. Il problema è rifarlo tre volte. È impossibile dai. Ma si può accettare. Dimmi che si può accettare. No perché allora quando finisci. C'è il checkpoint è sopra le astronavi. E non credo che riesci a salire sopra le astronavi. Capito. Io non riesco. Giro 2. Al primo reattore dell'aereo. Poi cado. Non so perché. No raga è incredibile. Dai. Dai. Ho sbagliato male adesso. Si abbassa troppo. Si abbassa troppo. Si abbassa troppo. Tu la fai andare verso sopra. Poi va sopra la macchina. Devi sempre mantenerla in equilibrio. Dai. È un po' difficile. No eh. Ma mi è andata a prendere la ringhiera del coso. Mi è andata a prendere. Ma ma no. Allora ragazzi. Se ce la faccio. Voglio 700 like a questo video. Non me ne prego niente. Un euro al like. Non parlo. Perché se no. No no. Sempre là. Sempre il solito problema. Devo trovare io. Che se ne va giù la macchina. Cioè. Io ce l'ho fatto una volta. Quindi 200 like. Non mi interessa. Se non ho concluso. Ma ce l'ho fatto una volta. Almeno appreziate questa cosa qua. Porca miseria. Beh abbiamo finito. Non me ne frega niente. L'abbiamo fatto. Però. È originale. Come gara. Da dire. Perché dove trovate una gara. Con i wall ride di elicotteri. Spettacolare. Veramente. Vi lascerò il link. In descrizione. Della gara. Ve la fate. Perché. Sono cose originali. Che vanno fatte. Queste su YouTube. Che non fanno tutti. Commentate. Lasciate un like. Iscrivetevi. Al canale di Vince. Che vi porterà i gameplay su. Hello Kitty. The Revenge. Sarebbe. Il seguito. Il seguito di Hello Kitty. The Battle. Il primo. È bellissimo. Come gioco raga. Per questo. Vi dovete iscrivere. Condividete questo video. E. Fatevi anche la gara. Perché è figa. Niente Vince. Puoi salutare. Eh raga. È troppo difficile. Queste gare. Io non vinco mai una gara. Insieme ad Alex. Però. Va bene. Polliciata assolutamente. Da vincere tutto. Goodbye. Ciao ragazzi. Bella. Ciao ragazzi.